No, ma non c'è solo rigato, eh, niente di che. Infatti c'è scritto danni allievi, ma no, c'è scritto danni allievi, c'è scritto, cazzo riparo. Eh, partenza merda, partenza di merda, va bene. Ah, cazzo, aspetta, aspetta, che ho sbagliato. Ho sbagliato io, lì, bene. Sinistra, sei, e sinistra, quattro, lunga, 250, 200, suddossi, 130. Tornante aperto, destra, non tagliare. E destra, cinque, sinistra, cinque, destra, quattro, lunga, non tagliare. E destra, sei, non tagliare, certo, sinistra, sei, non tagliare. E sinistra, quattro, lunga, 200, destra, quattro, lunga, stai all'interno, certo. 110, suddossi. Tieni la sinistra sul gridare, 60, destra, cinque, non tagliare. E destra, quattro, non tagliare, 60, destra, sei, non tagliare. E dosso, e sinistra, quattro, e destra, sei, 80, sinistra, quattro, uno. E destra, sei, e sinistra, cinque, 150, 200, suddossi, 60. Destra, sei, non tagliare. E dosso, e sinistra, quattro, e destra, sei, 150, tornante aperto, destra, palo esterno, 60. Cartello, 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 eh, sapevo il cartello. Puttana, non va bene il cartello. Un pazzo a guidare, Andre, un pazzo. E andata bene.